Buonasera, per la Gran Bretagna è stata una nuova domenica di violenza e di sangue. Un agente è stato ucciso con un colpo di fucile, cinque suoi colleghi sono gravissimi all'ospedale, duecentocinquanta persone in tutto, in maggioranza poliziotti, sono rimasti feriti. È il risultato di una nottata di scontri tra polizia e centenaie di teppisti avvenuti nel quartiere londinese di Tottenham. Questa volta non sono stati soltanto giovani di colore ma anche numerosi bianchi ad assalire gli agenti e a mettere a ferro a fuoco il quartiere. All'origine della violenta protesta contro la polizia c'è la morte di una donna nera avvenuta mentre gli agenti stavano perpisendo la sua abitazione. Per la prima volta la polizia inglese è stata armata con proiettili di plastica. Dura sconfitta dei socialisti portoghesi nelle elezioni di ieri. Il partito di Mario Soares, tuttora al potere, ha perduto circa il 15% dei voti, diventando così il secondo partito del paese, preceduto dai socialdemocratici. Un guadagno del 3% è andato proprio ai socialdemocratici, che totalizzano ora il 30% dei suffragi. Avranno quindi il compito di formare il nuovo governo in coalizione con altri partiti, molto probabilmente con il partito fondato qualche mese fa e ispirato dal presidente Yanesh, che ha ottenuto un successo clamoroso. Con il 18% dei voti il partito di Yanesh è in pratica l'arbitro della situazione politica portoghese. Colpo di scena a Seul nelle riunioni preparatorie dell'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale che si aprirà domani. Gli Stati Uniti hanno imposto agli altri paesi una norma per la limitazione dei prestiti ai paesi in via di sviluppo. Contrari si sono dichiarati in molti paesi, fra cui l'Italia, la Francia, la Spagna e la Cina. A questo punto l'attesa per il piano statunitense e per gli aiuti futuri ai paesi debitori annunciato per domani si è molto raffreddata, poiché nei fatti la sua applicazione sarà comunque limitata dalla risoluzione approvata oggi. Dollaro di nuovo in rialzo. Alla chiusura dei mercati finanziari, la moneta americana è stata quotata 1.778 lire e 99 centesimi contro le 1.763 e 90 del fixing di venerdì, 15 lire in più. L'intervento massiccio delle banche centrali ha evitato che l'aumento del dollaro assumesse valori più alti. A Milano, nell'appello del processo Tobagi, la Corte d'Assise ha confermato la pena di primo grado, 8 anni e 6 mesi, eliminando solo 3 mesi d'arresto per Marco Barbone e Paolo Morandini, due pentiti rei confessi dell'omicidio del giornalista. Forte riduzione di pena per Mario Marano, condannato a 12 anni. In primo grado gli erano stati inflitti 20 anni e 4 mesi. Per Daniele Laus, condannato a 16 anni, cioè 11 anni e 8 mesi in meno. E per Francesco Giordano, condannato a 21 anni di reclusione dopo aver avuto 30 anni e 8 mesi nel giudizio di primo grado. Il cantodore Franco Califano è da oggi in libertà. Sono infatti scaduti i termini di carcerazione preventiva e la decisione di rimetterlo in libertà è stata presa dagli stessi magistrati napoletani che nel maxiprocesso alla camorra lo avevano condannato a 4 mesi e mezzo di reclusione. Già alcuni mesi fa Califano aveva ottenuto dai giudici, mentre era agli arresti domiciliari, il permesso di effettuare una tournée. Prossimo appuntamento con il Tg2 alle 19.45. 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 Grazie.